Tornano le buone notti in versione compact, belle compresse in una settimana ad affiancare Pesaro nella settimana in cui anche Montelabate diventa capitale italiana della cultura, uno spettacolo. Sì, tornano le buone notti, le buone notti della cultura abbiamo intitolato appunto per riprendere questo format, come si dice insomma, già sperimentato in questi anni, nelle ultime estati, è una settimana piena di eventi e tra questi eventi di varia natura, di vario genere, con varie proposte non poteva mancare Farneto. Questo nostro borgo antico è pieno di bellezza, è anche ricco attorno di un paesaggio bello, delle nostre colline, per rendere omaggio questa sera a Don Ciro Scarlatti, questa figura di prete, poeta e cacciatore che è scomparso ormai da più di 60 anni, però rimane potentemente nella memoria e nei ricordi delle persone. Cosa vi aspettate da questa settimana nella quale Montelabate affianca Pesaro nell'essere capitale italiana della cultura? Ci aspettiamo tanto interesse, tanto entusiasmo, come abbiamo visto dalle prime battute della settimana, con molta partecipazione di pubblico ed è una settimana che è tenuta insieme da diversi elementi, dalla memoria, dal paesaggio e anche dal presente. Quindi valorizza il nostro mondo, diciamo così, il nostro angolo di mondo a 360 gradi. La settimana della cultura di Montelabate si chiamano le buone notti della cultura. Questo vuole essere una prosecuzione di un progetto che va avanti da ormai dieci anni, delle fantomatiche buone notti che hanno popolato il territorio negli ultimi anni e che hanno fatto scoprire il territorio di Montelabate. Quello che abbiamo voluto fare con la settimana della cultura è stato proprio quello di riproporre in sette giornate, in sette giorni durante questa settimana proprio le buone notti con lo spirito dell'inizio. Quindi saranno degli appuntamenti prevalentemente serali, tranne che per alcuni eventi. Si svolgeranno tutte le sere dalle 21 in poi. Saremo nei peschetti, saremo in collina, saremo nei borghi storici come Farneto questa sera e poi finiremo anche in luoghi della memoria come la linea gotica dove vedremo dei film, ascolteremo dei concerti all'alba e tanto altro insomma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.